Prenderà il via lunedì prossimo 27 febbraio il 24esimo corso multidisciplinario universitario di educazione allo sviluppo che si terrà gratuitamente presso la sede Unicef di Sassari in via Duca degli Abruzzi 3. Il percorso formativo per il quale sono ancora aperte le iscrizioni, i migranti, i bambini e i soli si rivolge non solo agli studenti universitari ma anche a tirocinanti, avvocati, insegnanti, assistenti, sociali, educatori, volontari e personale in servizio presso le case di accoglienza. Si stima siano 25.800, più del doppio rispetto allo scorso anno, i minorenni non accompagnati arrivati in Italia attraverso la rotta nordafricana. In Sardegna nel 2016 sono sbarcati 9.078 migranti, di questi oltre 1.800 minori. Ma sentiamo dal presidente provinciale dell'Unicef, Silvana Pinna, le finalità del corso sui bambini migranti che si concluderà il 5 maggio. Con questo corso far sì che non solo gli operatori ma anche gli studenti universitari, i docenti, tutti coloro che comunque anche le famiglie lavorano con bambini possano capire quali sono i diritti dei bambini o meglio approfondire i diritti dei bambini ed attuare i loro diritti nella società tra cui quello naturalmente più importante della partecipazione attiva. Il corso si articola in tre moduli importanti, uno sui bambini in fuga quindi perché vogliamo dare un'idea molto precisa dei paesi da dove fuggono i bambini migranti. Naturalmente si tratta di bambini migranti non accompagnati o separati al lato della migrazione. E poi nel secondo modulo si parla invece del superiore interesse dei minori, della protezione dei minori nella normativa italiana ma non solo italiana ma di quella internazionale. Il terzo modulo invece concretamente è cosa stiamo facendo nelle case d'accoglienza. Ma sta succedendo ancora che non stanno nelle strutture protette ma in promiscuità con adulti e quindi con tutte le difficoltà che noi capiamo quando un bambino spaurito, traumatizzato e con un'infettura di problemi che si porta dietro da un viaggio che magari è durato anche due anni tutte le difficoltà che può avere in una realtà come la nostra.